Sono 397 falsi braccianti agricoli scoperti dai finanziari della compagnia di Cirignola a seguito dei controlli effettuati con l'Inps nei confronti di società agricole operanti nella zona. 5 gli imprenditori agricoli denunciati per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato che avrebbero fintiziamente assunto il personale solo per accedere agli emolumenti previdenziali. Individuate 67.517 giornate lavorative mai eseguite che sono servite a giustificare l'indebite erogazione di indennità per un importo di oltre 2.285.000 euro.